Siamo nelle campagne di Borgo Mezzanone, tutte pronte, le donne braccianti, insieme ai braccianti per la manifestazione di oggi, perché l'8 marzo è ogni giorno, è la tema della disparità salariale, dello sfruttamento, della razzializzazione, della precarietà e della ghettizzazione abitativa. Ci vediamo tra poco e insieme a noi ci saranno i parenti e gli amici di Tfaloig Dabu. Indossa il giubbotto Lascia il telefono Indossa il casco Rispetta il codice della strada Usa il campanello Rispetta la segnalettica Segui il tuo senso di marcia Massima attenzione agli altri mezzi Non trasportare altre persone o animali La bicicletta Usala in sicurezza Rispetta le regole